Nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti della Polizia Municipale, diretta dal Maggiore Sergio Cauceia, su impulso del Sindaco Adamo Coppola, hanno effettuato una serie di controlli alle attività commerciali presenti nella città di Agropoli per verificare il rispetto delle prescrizioni anti-Covid-19. Nel corso degli stessi si sono imbattuti in un'attività in località Moio, nella quale sono stati riscontrati eccessivi assembramenti e in osservanza della distanza minima di sicurezza, inoltre gli astanti consumavano tranquillamente alimenti e bevande all'interno dei locali, sebbene tale pratica sia espressamente vietata nell'ultimo DPCM. A quel punto gli agenti hanno provveduto ad elevare la sanzione a carico del titolare di 400 euro e a disporre la sospensione dell'attività per cinque giorni. I controlli proseguiranno con costanza anche nei prossimi giorni.